Si è tenuta ieri sera a Palazzo Spinelli la presentazione del libro di Don Enzo Fortunato, Francesco il ribelle, organizzata nell'ambito della quindicesima edizione della rassegna culturale Libri sotto le stelle. Un volume dedicato ad uno dei personaggi chiave per comprendere come si vada configurando il cristianesimo in questo inizio di terzo millennio. Perché proprio il titolo Francesco il ribelle? Ma oggi abbiamo bisogno di una grande ribellione verso gli egoismi, gli egoismi sociali, gli egoismi politici, gli egoismi personali. Di fondo di tutto questo è una ribellione che non è, come ammo dire, scassinare o rompere pilomat e bangomat, ma partire dalla propria vita. Sia quella la più grande forma di ribellione, i propri gesti, il proprio linguaggio, dei propri luoghi. In un momento così particolare è anche un messaggio però di speranza. Un messaggio di speranza perché Francesco è accoglienza, io dico sempre che il secondo nome di Francesco è accoglienza. E ci vengono in mente anche le sue parole, fa che non cerchi tanto di essere amato ma di amare.